sapete che c'è regà coremo sin da quando siamo piccoli anzi da quando stiamo nelle palle di papà nostro che fanno quella corsa veloce veloce va arrivà dentro all'ovulo di mamma nostra e le tue cose si incontrano e tu nasci ecco già lì inizia il cuore poi te metti nel mondo e quello che tu te preoccupi più di tutto è di diventare qualcuno nella vita di non essere un numero ma di essere ricordato come qualcuno che ha fatto qualcosa di grande insomma di essere professionista di essere un numero uno poi però quando ci arrivi e sembra che non ti manca un cazzo dal giorno alla notte succede che ti senti male ti ricoverano dentro all'ospedale in condizioni gravi e la vita tua rimane appesa a un filo tra virgolette ma a sto punto a dei macchinari perché se li staccano tu vai dall'altra parte del mondo è questa la verità questo è un preambolo di vita perché sfido chiunque di voi che stanno a guardare sto video compreso me a dire che nella vita non volevamo essere i numeri uno non volevamo essere ricchi non volevamo essere il top del top però quasi sempre per arrivare a quegli obiettivi devi dare impegno qualcosa e alcune persone danno impegno pure la vita allora innanzitutto pochi minuti fa ho letto il bollettino che hanno lanciato sull'ansa e ho letto che le condizioni sono davvero molto critiche del giobbarone voglio mandare una preghiera con il cuore innanzitutto a lui che possa uscire indenne da questa situazione e che possa tornare dai familiari suoi questa è la prima cosa il primo auguro che voglio fare e poi voglio dare un abbrascio davvero forte alla sua famiglia e tutti gli affetti oltre i colori perché quando si tratta di questa roba qua non c'è stata Fiorentina Lazio, Milan, Roma, Juve c'è Stanni Cristiani e gli esseri umani quindi ripeto mi auguro con tutto il cuore che possa uscire dal coma che ho letto e possa tornare dagli affetti suoi questa è solo una preghiera spero di non poteva e non doveva un altro video ti mando un abbrascio Gio daglie daglie tutte non mollate pari che voi ricordatevi nella vita che è giusto arrivare alla vetta però mi raccomando non date impegno la vostra salute perché la vita è una sola e il devine vi saluta rimettite presto caposciù sogna ragazzo sogna piccolo ragazzo nella mia memoria tante volte tanti dentro questa storia non vi conto più sogna ragazzo sogna ti ho lasciato un foglio sulla scrivania manca solo un verso quella poesia puoi finirla tu grazie